Ci siamo acquietati qui Ed è con questo Con questo tono di voce Che vado a presentarvi Il nuovo format di oggi Mario che abbassa la voce Perché altrimenti a casa Si lamentano Mario si è fatto del composto V No 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 È semplicemente la Monster No no non si può fare Di Valentino Rossi Sempre un gusto diverso Ma sempre la solita Intramontabile Bellissima Taurina Noi ci conosciamo da poco Relativamente Ti scoprì con i miei amici di San Ligandro I miei carissimi amici Me la fecero assaggiare Mi ricordo Quando la assaggiai feci un pochino come Il bambino che beve il suo primo caffè Una faccia Riluttante, stizzita Aggrovigliata Su se stessa Poi mi ricordo Che ero stanco Dovevo esibirvi Esibirmi Non con la B E Michele Espro Quello il ragazzo che è famoso nel canale Per Sì 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 Che avrei potuto Fare un patto con le mie energie Attraverso Che poi si vede riflesso Poi si vede riflesso Poi si vede riflesso Ma che cazzo E adesso la pago io Perché a casa rimango io Che devo andare al pub dell'amico Incredibile Incredibile L'ho presa io in culo Incredibile Però si è un po' strano Ciao 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 belli Ciao ciao Hanno bussato perché alle 22 non si può fare finta di litigare Forse loro non sanno che non stiamo litigando Non lo so Non lo so Ma posso dire Che Sdrumox Mi ha rovinato La serata Perché adesso Io Non riesco Non riesco a gestire Perché Di qua Di là Ragazzi La vita dello streamer È Difficile Aveva ragione In smurri Con quel video Aveva ragione